La lavatrice Come pulire la lavatrice, eliminando muffa, calcare e ruggine e facendola sembrare come nuova Luso frequente della lavatrice può portare alla formazione di muffa, calcare e ruggine, che spessa causano a loro volta cattivo odore e riducono lefficacia della lavatrice stessa Di seguito ti spieghiamo come pulire la lavatrice in modo naturale, evitando luso di prodotti chimici e dannosi per la nostra salute I seguenti trucchi sono completamente naturali, e ci permettono di poter lavare la lavatrice più spesso senza danneggiarla o deteriorarla, al contrario dei prodotti industriali. La manutenzione della lavatrice è importantissima per allungare la vita dell'elettrodomestico Aceto. Per pulire l'interno di una lavatrice riempila d'acqua calda, poi versaci 250 ml di aceto bianco. Attiva un ciclo di lavaggio e attendi che finisca. L'aceto ha proprietà antibatteriche che eliminano muffa e cattivi odori Bicarbonato. Anche in questo caso basta riempire la lavatrice d'acqua calda, per poi versare 200 grammi di bicarbonato e far partire un ciclo di lavaggio. Ripeti due volte per ottenere risultati ancora più soddisfacenti Acqua ossigenata e limone. Questo rimedio è particolarmente efficace contro la muffa. Versa 250 ml di acqua ossigenata il succo di un limone in un ciclo di lavaggio per sbarazzarti della muffa.